Ma se in questo momento sono in tanti sulla via del ritorno a casa, molte persone sono ancora in vacanza. E tra le mete esplose negli ultimi anni sicuramente c'è il Parco del Pollino. Per noi è in collegamento da San Severino Vito Miraglia. Vito a te la linea. Sì Giovanni, penultima domenica di agosto il Parco Nazionale del Pollino si conferma la meta ideale del turismo montano qui in Basilicata. Un'isola di refrigerio lontana dalle città, dall'Afa, dalla calca delle spiagge. Ci troviamo a San Severino Lucano. Come ci ha detto il suo sindaco Franco Fiore, dopo un luglio con un numero di presenze più contenute rispetto allo scorso anno. Agosto invece ha visto un forte afflusso di visitatori distribuito lungo tutte le settimane, quindi non solo nei giorni del weekend. Stamattina abbiamo fatto un giro nel parco qui in località Bosco Magnano. Chiedo alla regia di mandare in onda il contributo e poi linea allo studio. Tantissimi si sono rifugiati all'ombra di Faggi e Cerri nel fitto Bosco Magnano a San Severino Lucano alla ricerca di relax per un contatto con la natura. Dove venite? Da Ginosa. Come mai siete qui al Pollino? Facciamo una passeggiata nel bosco e passiamo una giornata. Da Sedise. Perché è stata una giornata diversa. Io da Roma sono il cognato e mi trovo qui. Vado in giro con lui, mi porta a spasso per il Pollino. Prima volta? No, no, sono anni che vengo qui. Come mai avete scelto il Pollino in questa domenica di agosto? In realtà siamo qui da venerdì, quindi abbiamo deciso di fare un weekend e vedere le bellezze naturali del posto. Tante le attività all'aperto, tra queste il River Trek a piedi nel torrente peschiera. La nostra attività di River inizia proprio da qui, dalla vestizione. Praticamente noi forniamo dei waters, che sono questi tutoni compresi di stivali, appunto per camminare all'interno del fiume. Poi forniamo delle cuffiette, dei calzari monouso e dei caschetti. E per una giornata a ritmo più lento, una passeggiata nel bosco. È un percorso percorribile tutto l'anno e si può arrivare fino alle casette o il punto definito del torrente peschiera, le marmitte. La roccia che è erosa dall'acqua. Il percorso è lungo circa 4 chilometri, difficoltà bassissima. E se si è fortunati anche la possibilità di incontrare la fauna. I picchi, sentirli battere sul tronco dell'albero, lo scoiattolo, quello tutto nero con il petto bianco. E poi magari si può trovare tracce dei cinghiali, che è molto difficile poterli vedere in libertà.